Andiamo avanti con la terza e ultima parte, sperando di raggiungere il finale del nostro obiettivo. Non la vedo così semplice, ma vedremo dove riusciremo a arrivare. Allora siamo all'atto 3 che implementa alcune modifiche rispetto ai due atti precedenti. Innanzitutto il testo dice che il Nautilus procedeva ad un'andatura esageratamente spaventosa, 40 miglia all'ora. Aveva letteralmente squarciato l'acqua. Ma dove era il capitano Nemo? Era deceduto? I suoi compagni erano morti con lui? Insomma questa nave diventa sempre più introvabile e ci sono dei cambiamenti. Prima di tutto ho ora adesso la possibilità di cambiare la motivazione di Nemo. Guardando dove sono messo e come sono arrivato posso decidere di cambiare questa motivazione se mi sembra che le cose che ho fatto in realtà producano effetti in un'altra motivazione. Ma non lo voglio fare perché ho lavorato fino adesso per avere tesori, per avere meraviglie e altre cose che è il tratto esplorazione quindi non ho intenzione di cambiare. Ok. Oppure posso selezionare un upgrade del Nautilus, ci fosse, ma io li ho già spesi tutti, li ho già fatti tutti utilizzando tutte le mie navi. Posso pagarlo ovviamente sempre con le tre risorse. Posso aggiungere e devo aggiungere le navi rinforzate arancioni che sono queste quattro navi che sono sempre più toste e sempre più dura in mezzo a tutte le altre navi. Poi gioco con la prossima carta e stavolta devo tirare tre dadi bianchi, quindi avete idea di quante navi verranno messe. Ma la cosa positiva è che posso utilizzare le mie azioni utilizzando questi dadi, nel senso che tirando tre dadi bianchi, eh vabbè ho fatto il tiro più sfigato del mondo, ma normalmente mette che questa è un 2, questo è un 5, è un 4, posso scegliere la differenza, quindi è 5 e 2 per il numero di azioni che posso fare. Questo mi aiuterà. Vero è che un dado in più produce un arrivo o una manifestazione di navi, un dado in meno produce un dado in più, ma mi darà anche più azioni. Quindi mi concentrerò ora sul restare vivo, quindi per restare vivo devo abbassare assolutamente tutte quelle che è la traccia, il tracciato della mia notorietà e eliminare più navi possibili. Quindi quello che potevo fare, credo di averlo fatto, quindi tirerò tre dadi bianchi e un dado nero all'inizio di ogni fase di piazzamento, scegliendo qualunque tra i due dadi bianchi per determinare i punti azioni o il turno di pausa. Posso anche decidere di utilizzare un turno di pausa per non fare azioni, ma non credo che sia la cosa migliore. Nel frattempo quindi partiamo con le ultimissime carte sperando di arrivare alla fine di questa avventura. Allora, sono richieste riparazioni, questo non è che mi piace particolarmente tanto come carta evento, è l'evento 46. Allora, il Nautilus si calmò solo a pochi metri sotto la superficie delle onde. Supposi che l'equipaggio fosse occupato con le riparazioni interne rese necessarie dalla violenza dei movimenti meccanici della macchina. È una carta che posso ottenere. Alla fine del turno posso passare, quando finisce il gioco, questa carta e mettere nel punteggio i punti vittoria negativi se questa carta non è rimossa. Se però la metto nel fallimento rimuovo questi 8 punti negativi, ma devo fare una azione di riparazione di successo e non azionare il mio bonus sul mio hole data dall'azione di riparazione. Quindi devo fare una riparazione gratuita, devo giocarmi il tiro dei dadi per la riparazione, è una keep card, ma allo stesso tempo devo giocarmi, non guadagnerò la riparazione o perderò 8 punti a fine partita o qualche turno. Va bene, andiamo con tutto questo po' di roba adesso. E che Dio ce la mandi buona? Allora, allora, due, male male. Riveliamo due navi. Vedete che ho due due adesso. Quindi qui non c'è più spazio, riveliamo due navi che cominciano a diventare sempre più sparute e cominciano ad arrivare navi da guerra. Meno male che io ho il torpedo attack e questa qua è una fregata armata e posso attaccare per primo io quella nave. La seconda nave è un'altra nave da guerra, anche lei al tratto iron, quindi posso attaccarla di più. Mi darà due bonus. Devo anche dire che alla fine del turno precedente ho commesso un errore. Ho fatto, avevo la bold attack che mi obbliga ad attaccare rivelando questa nave. Io invece ho speso, ho utilizzato l'azione che avevo per spendere prendendo il turno, prendendo l'upgrade. Quindi non avrei potuto fare quell'azione senza prima decidere di finire i miei bold attack rivelando navi su navi. Quindi quello è un errore che ho fatto, me ne dispiace, me ne sono accorto ricontrollando il video. Non potevo fare, dovevo continuare l'attacco fino alla fine. Poi devo mettere una sul tre e una sul sei che quindi va a finire qui. Vedete che sono tutti pieni, questa me lo porta qui dove sono io. In più, sei meno due sono quattro azioni. Oh, adesso posso fare qualcosa. Prima cosa che voglio fare è assolutamente liberare tutta questa cosa qua, anche se dovrei andare nell'Eastern Pacific, cioè qui, a fare un qualche attacco. Quindi, allora, innanzitutto facciamo, prima di tutto in questo luogo, facciamo un insight, un'azione di incitazione alla rivolta, perché è quella che mi potrà far recuperare punti, punti sul tratto della notorietà. Quindi, visto che non ci sono nave presenti che andrebbero a diminuire il mio modificatore dei dadi, io faccio un'azione di incitamento. Quindi, spendo una delle mie azioni, tiro i dadi, utilizzo la mia crew che mi dà più tre per fare il tratto di incitamento. Posso spendere tesori per aumentare, ho la libriracana che mi dà più uno. Avessi anche un'altra carta speciale, un altro upgrade, aggiungerei più uno, meno uno per ogni nave rivelata e meno uno per ogni cubo già rivelato. Per ora siamo a zero, quindi io prendo i miei due dadi, ho tre più uno, quattro. Per avere successo devo fare sette, ma se faccio di più è meglio. Ops, no, ho fatto un danno. Ho spostato tutto. Ho spostato tutto. Questo era qui, questo era qui. Credo di non avere altre cose in giro. Andiamo. Oh, undici. Oh, questo è un bel tiro. Quindi, faccio l'azione di incitamento. Ho fatto più di dodici. La rivolta ha successo e io piazzo qui, ehm... Beh, sì, nella migrazione cinese, lo piazzo qui, varrà punti a fine partita, ma soprattutto piazza un cubetto e riduci di due, meno due, uno due, la mia notorietà. Questo mi piace assai. Posso spendere un'altra azione per fare un'altra azione di incitamento qui, magari recuperare ancora qualcosina, ma mi sposto su un altro oceano e spendo un'azione per muovermi con la mia nave, uno, due, e vado qui, perché queste due navi, che sono sì forti, ma ho la possibilità di attaccarle prima, perché entrambi hanno parole chiave come armato e ferro, che mi danno la possibilità di attaccare le navi prima di prendere danni, prima di subire il loro attacco. Quindi io attacco per primo. In più, essendo due navi che potrei piazzare qui, facendo una serie di attacchi, di bold attack, posso usare anzi i torpedo attack. Eccola qua, utilizzerò il mio torpedoes. Eccoli qua. Una volta, una volta per action phase, posso fare un attacco torpedo gratuito dove c'ho la locazione del nautilus. Quindi posso farlo solo una volta per un libero attacco torpedo. Quindi utilizzo il mio primo attacco per questa nave, che non attacca, quindi è un'azione gratuita. Utilizzo questa nave per aggiungere, è una nave da guerra, quindi sono sei più due dadi. Sei più dieci sono sedici e ho abbondantemente sconfitto questa nave, che purtroppo mi fa aumentare di uno la notorietà, ma la posso piazzare qui nel pacifico dell'est. Guardate. E quindi posso fare, completare otto punti a fine partita. Nel pacifico dell'est, vediamo se c'è qualcosa. Ok, quando il nautilus è in un qualsiasi oceano pacifico, posso far fallire questa carta per guadagnare due crew e due notorietà o piazzare un cubo rivolto in quell'oceano. Vabbè, allora io piazzo un cubo rivolta. No, non ci sono cubi rivolta qui, connessi. Ma porca miseria. Vabbè. Poi vediamo se ho altre cose che me le dimentico. Allora, questo è atlantico e questo è atlantico. Niente, non posso... ho visto cose molto intelligenti fare per segnalare che ci sono azioni sui vari oceani. L'ho visto in un video. Posso piazzare, non ce li ho qui vicini, ma ce li ho da un'altra parte, dei token particolari, qualsiasi tipo di token, per ricordarmi che su quel mari ho delle azioni che posso completare. Non l'ho fatto, non l'ho preso. Avrei dovuto farlo, prepararmi per questa cosa qua. Vabbè, ho fatto la mia prima azione gratuita con l'attacco torpedo, rimetto questo qui, e allora devo decidere se fare un secondo attacco a questa nave, per liberare almeno questo mare. Quindi... Mi sono mosso? Ah no, no, allora devo spendere l'azione per attaccare. Era un'azione gratuita il torpedo, quindi posso decidere di fare tutta una serie di bold attack, ma guadagnerò, guadagnerò troppa... Quindi faccio uno stock attack normale, faccio un attacco normale a questa nave. Quindi utilizzo 3, più 1, 4, più 1, 5. Ho bonus di 5 su 10. Bonus di 5 su 10, 6 più 5 fa 11, al pelo riesco a distruggere questa altra armata senza prendere l'attacco, ma guadagno un'altra notorietà. Piazzo anche questa nave qui. Fine partita mi vale solo un punto, ma vedete che forse riesco a completare anche questa. Quindi, mi muovo adesso, mi muovo decisamente verso un altro mare, quindi spendo un'azione per muovermi in un altro mare, 1, 2. Questa non è che mi interessa, sì, 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 forse in effetti va bene. Posso andare in questo mare, 1, 2. Nell'Atlantico del Sud, non è che sarebbe meglio l'Atlantico del Nord, vediamo se riesco ad arrivare all'Atlantico del Nord da qui, no. Sarebbe meglio l'Atlantico del Nord o l'Oceano Indiano, 1, 2. In ogni caso non ci arrivo, quindi va bene. Vado al Sud Atlantico, 1, 2, perché spendo un'altra azione per fare uno Stock Attack a questa nave, quindi vado a pescare la nave e la rivelo, e poi magari un'azione di ricerca del tesoro. Potrebbe essere? Va bene, va bene, è un Iron, va bene, è un altro Iron. È un altro Iron, va bene, ho le mine magnetiche straordinarie, quella roba lì. Quindi, di nuovo 3, che non ho spostato, 3, più 1 dello Stock Attack, più 1 della mia nave, quindi ho 5 di base, più 4. No, non sono riuscito! 5 più 4. Non ci posso credere. Ho soltanto azioni. Non ho più il re-roll. No, che fregatura! Dadi schifosi! Niente, non sono riuscito nel mio attacco. 3, 4, 5, 3, 8, 1, 9. Vabbè, devo lasciarla qui, non posso fare nient'altro. Ma se cerco il tesoro adesso, se cerco il tesoro adesso è un problema, perché cercando il tesoro devo fare meno 1, ma devo fare 7 per prendere un tesoro. dai, spendo l'ultima azione. Allora, ho più 1 della mia libreria raccana, meno 1 perché c'è una nave rivelata, per ogni nave rivelata, quindi meno 1. Uso le mie 3, devo fare 4. Eh, 8 più 3, 11. Successo, guadagno un tesoro. Va bene. Successo, meno male, non ho perso neanche notorietà, che è la cosa più difficile. C'è, non ci credo, la città perduta di Duorca. Ragazzi, questi sono altri 7 punti, eh. Eh, poi prendo, 7, 14, 21, 28, più tutte le carte, più 1 di Nemo, sono 35, più le carte. Posso guadagnare un bel po' di punti, lì, eh. Ma non credo di essere messo così tanto bene. Dunque, dov'è che azione ho fatto adesso? Ho fatto l'azione di ricerca, sì, qua. Quindi tiro via questa. Ok. Finito il mio turno, non ho più azioni, andiamo a pescare un'altra carta, devo giocarla. Allora, in ogni oceano dove ci sono una o più navi da guerra, russiane, vediamo, ce n'ho una spagnola e un inglese, non ci sono navi da guerra, immediatamente devo scartare un un hidden token, il token delle navi nascoste o rivelare una nave ship. Niente. Va bene. Poi, sempre, passa questa carta per mettere quelle navi nella vittoria, appunto, fallisco guadagnando 2. Oh, perché è la Prussia dichiarato guerra, quindi c'è una guerra in corso e io ne approfitto per questa. Io fallisco, assolutamente, chi se ne frega, fallisco, ma guadagno una o due due carte, due punti. Buono, buono, 25 su 36. Questa è una bellissima, bellissima carta evento. Quindi, adesso andiamo a tirare i dadi. Ai, ai, ai. Allora, 6, 2, ce n'è dappertutto, ce ne mette le navi dappertutto. Allora, innanzitutto il 2, va bene. Poi, poi il 4, il 5 e il 6. Non posso mettere navi su 6, devo per forza rivelare una nave che mi bloccherà, mi bloccherà. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. È un'altra nave mercantile, mannaggia che, va bene, perché sono navi non eccessivamente forti, non eccessivamente forti, ma danno un sacco di notorietà. E ho 4 azioni. 6, meno 2. Mi trovo qui. Questa qua non la voglio attaccare. Mi sposto, quindi, primo movimento, mi sposto qui. L'oceano indiano, sì, posso fare qualche attacco qui. Primo movimento. Utilizzo subito il mio attacco torpedo contro questa. contro questa nave. Quindi ho 5, perché è una nave non da guerra, 5 più, beh, 12, vabbè. Prendo la nave dell'oceano indiano, me la metto qui, e, guadagno 2 notorietà, non mi piace neanche un po'. C'è un'altra nave che potrei piazzare qui o potrei andare a cercare nel nord atlantico a questo punto, sì. Quindi, ah no, non ho il passaggio diretto qui, non posso fare 1, 2. Eh vabbè, allora, sono qui, potrei andare a liberare qualcosa qui con un movimento. Con un movimento potrei andare qui e evitare di poi di caricare troppe navi. Quindi, un movimento lo spendo per andare qui. Non ci sono navi rivelate qui, quindi a questo punto faccio i miei bold attack nel nord pacific. questo è western. Western, vabbè, ancora 3 slot. Allora, sì, quindi, faccio un'altra azione di attacco e poi mi sposto qua al nord. Allora, faccio un'azione di attacco utilizzando il bold attack, quindi non lo stock, ma il bold che mi permette di non guadagnare troppa notorietà. Io non vorrei navi che abbiano notorietà. Ecco, questo è il mio desiderio. Eh, l'ho trovata. Ho trovato una nave che dà notorietà. È una nave passeggeri a 9, quindi io ho 3 più 1, 4. Vediamo se riesco ad attaccarla. Sì, 9. Ce la faccio ad attaccarla, lo metto nel western pacific. Eh, dov'è il western? Ah, qua c'è una marea qui. Scendo giù, rivelo un'altra nave. Non guadagno notorietà, ma una la guadagno comunque. Dov'è? Questo lo rimetto dentro. Eh, vediamo se riesco a... Ah, un'altra nave postale, va bene, perché comunque non sono navi da guerra, o tutto il resto, ma danno notorietà. E io dopo metterò dentro queste altre navi verdi, navi da battaglia, che fanno particolarmente paura. Faccio un altro attacco, allora, 3 più 1, 4, eh, più 11, via. Questa va, ma la metto qui, perché non voglio continuare i miei attacchi, quindi devo per forza metterle qui. mi fermo con il mio bold attack, devo guadagnare la notorietà, quindi devo mettere dentro queste altre navi che fanno veramente, veramente paura. Navi da battaglia. Ai, 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 ai. Allora, ritorno indietro con il mio... Ho ancora un movimento, ancora un'azione, la spendo per muovermi qui, non soltanto perché riuscirò forse a riempire questa seconda casella, ma perché qui c'è un sacco di navi che adesso saranno esposte. Va bene, andiamo avanti con il mio turno, non ho più azioni, è un'altra carta che devo ottenere, è l'evento 36, il cavo transatlantico. Quando il Nautilus è nell'oceano del nord, nordatlantico, sono dove sono adesso, posso fallire questa carta e immediatamente performare un'azione libera di incitamento di ricerca. Free insight and all search action. Ah, plurale, posso immediatamente fare azioni e ricerche libere, ma non di più di tre combinate. Per ognuno di quelle, però, guadagno, guadagno una notorietà. Allora, questa io direi di farla subito, la direi di farla subito perché l'incitamento se tiro bene mi diminuisce notorietà, ma allo stesso tempo guadagno notorietà, ma piazzo cubetti. C'è ne ho due che posso fare, equazioni. Ricercare tesori e due cubetti. Va bene, sono azioni libere. Free action. Free insight and all search action. Non più di tre, però combinate insieme. Quindi posso fare due incitazioni e una ricerca o due ricerche o un'incitazione. Va bene. Va bene. Vediamo cosa succede, quante azioni ho poi per fare altre azioni, sperando di non saltare per aria. Allora, uno, va bene. Poi tre e qua. Ho due quattro da mettere che non ne ho. Non ne ho. Quindi devo rivelare altre due tessere in questo oceano. Pericolo, pericolo. Pericolo, pericolo. Perché se poi non riuscirò. Allora, la prima è un'altra nave da guerra. Mamma mia, è potentissima quella. Mamma mia. E questa è una nave passeggeri. Allora, io ho ancora bonus di due. Se io durante una mia azione non posso rivelare navi nel lato navale, cioè non gli oggetti nascosti, se io non posso farlo, ho perso la partita. Qualunque di queste. Quindi, dovrei andare a liberare assolutamente, magari non questa, perché ci sono un sacco di navi, ma una di queste due in maniera che si esce un quattro. Sono ancora a salvo, perché col due me la cavo, col sei me la cavo, ma col quattro sono messo male, 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 tanto male. Ma anche qui sono messo male, anche se posso rivelare navi. Qua mi sono già giocato l'ocieto, il nord atlantico, che comunque dovrei andare a fare per riempire questa seconda casella. Eh, no, no, è il sud atlantico, ce l'ho. Un'azione per volta. Allora, innanzitutto, 4-1, ne ho tre, ma qui mi gioco, mi gioco questa carta che mi dà la possibilità, eccola qua, dov'è che l'ho messa? Mi dà la possibilità di incitare, di fare azioni di incitamento, quindi questa la metto nel fail, mi sta bene. Allora, io come incitamento mi gioco, sicuramente questa, sono più tre, più uno della libreria arcana, quindi sono quattro. Non ci sono navi rivelate, quindi non ho punti negativi, mi gioco il tesoro per aggiungere uno al tiro dei dadi, quindi ho tre, più uno quattro, più uno cinque, dai, 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 cinque più nove, quattordici, quell'azione mi dava più uno di notorietà, io piazzo il cubetto qui, il cubetto qui, però, visto che ho fatto un buon punteggio, mi fa retrocedere di due la notorietà, mamma mia, devo salvarmi in questi modi, ma la vedo durissima, la vedo durissimissima, poi, faccio un'azione di ricerca a questo punto di prendere tesori, si sa mai che becco qualcosa di buono, magari un re-roll, quindi faccio un'azione di ricerca, anche questa gratuita, e ho sempre tre del mio equipaggio, uno della mia libreria arcana sono quattro, più sei sono dieci, quindi posso prendere un tesoro gratuitamente senza recuperare, senza avere notorietà, questo è il tesoro che ha un più tre, va bene, poi, vediamo se riesco a recuperare ancora notorietà, dovrei mettere un altro cubetto qui, un'altra delle tre azioni libere che posso fare, allora, metto il cubetto, ce n'è già uno, quindi è meno uno, il meno uno mi va a bloccare questo, il bonus che ho, quindi ho solo più tre, ma io mi spendo un tesoro di tre, sì sì, decisamente un tesoro di tre, quindi ho sei, ho sei di bonus, diciamo così, per mettere un altro cubetto lì, sei più otto sono quattordici, quindi guadagno una notorietà, metto il cubetto, ma ne prendo due, quindi ho recuperato una notorietà, guardate che salti mortali mi tocca fare, anche se questa qua comunque mi darà tre punti alla fine della partita, quindi sono tre, sei, nove, vabbè, non male, non male, allora, ho fatto le mie azioni gratuite, le tre azioni gratuite, direi di, prima di tutto, liberare il nord con un'azione, e direi di rivelare la nave e facciamo una stock action, un attacco, dov'è che è, eccolo qua, facciamo questo, guadagnando, anzi, 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 quasi quasi la farei a questa nave, sto ragionando se fare il torpedo attacca questa nave, non ho idea di quello che viene, si faccia uno stock attack, faccia uno stock attack, speriamo che vada bene, ho paura, c'è un sacco di navi potenti qua, ho beccato un'altra nave da guerra, mannaggia, ma soprattutto, vabbè, l'iron, va bene, attacco prima io, attacco prima io, quindi, poiché è il tratto iron e io le mine magnetiche parto prima io, mi darà una notorietà, ma mi sta bene così, allora, stock attack, 3, più uno 4, più uno 5, 5, devo arrivare a 10, devo arrivare a 10, signori, oh, arrivo a 15, faccio fuori questa maledetta nave nel nord atlantico, quindi, no, sì, nord atlantico, eccola qui, riempio questa seconda casella, guadagno una notorietà, potrei fare un altro attacco qui, ma, no, è molto più importante un'altra azione, cioè, scendere qui, ok, movimento qui, potrei andare qui, fare uno stock attack, per avere una possibilità, ma, a questo punto, io faccio un altro, ultimazione, anzi, faccio il torpedo attack, gratuito, contro questa nave, e lo faccio perché questa nave, no, non lo faccio quello, spendo l'azione, sono indeciso, allora, se faccio il torpedo attack, perché questo iron, mi dà la possibilità di fare l'attacco, senza spendere, senza farmi prima attaccare, e non è male, il problema è che questa nave, mi darà meno uno, al modificatore, mi darà meno uno, al modificatore, sì, ma è scritto qua, eccolo qua, dai roll modification, meno uno, per ogni altra, nave da guerra presente, quindi, rischiamo, devo far fuori quelle due navi, non c'è verso, non c'è assolutamente verso, questa ha 11, quindi, utilizzo la mia azione per fare un altro stock attack, prima di usare il mio torpedo attack gratuito, ok, allora, stock attack, attacco questa nave, e attacco di, 3, più uno, 4, più uno, 5, 5, oh, 12, ok, questa nel sud atlantico, quindi va qui, sud atlantico, mi darà solo un punto vittoria, ma va bene, mi prendo uno di questi, di notorietà, e sta bene, adesso, uso l'azione gratuita, del mio, dov'è, torpedo attack, quindi, prima devo difendermi da questa nave, dalla capitale, quindi mi attacca di 8, ai ai ai, 4, 1, 5, prendo un danno, prendo un danno dal suo attacco, ed è sul 3, la mia crew, no, no, va qui, sono tutti influenze, sono tutti stanchi, perché uno l'ho perso per aver, ah no, no, in questo caso, no, no, scusate, non l'avevo messo indietro, va solo qui, va solo qui, in ogni caso, il bonus che mi darà sarà più 2, adesso faccio il mio torpedo attack, quindi 6, poiché non ave da guerra, 6, più, 7, sono 13, l'ho battuta, perché ha 11, e la metto sempre qui, vale 4 punti, ma soprattutto 2 notorietà, ahiaiai, ho liberato però, ho dato un po' di libertà, devo fare altri incitamenti, per poter, in qualche modo, riuscire a tenere sotto, sotto controllo, quello, ho finito tutte le mie azioni, andiamo alla fase evento, devo giocarla, fallir, devo fallire questa azione, e piazzare una, no, no, opinione pubblica, non ci posso credere, questa è la peggiore fra le carte possibile, mannaggia, commercianti, armatori, capitani di navi, skipper, e capitani di lungo corso, dall'Europa e dall'America, ufficiali navali di ogni paese, e alle loro calcagne, i vari governi nazionali, di questi due continenti, erano tutti estremamente turbati dal commercio, insomma, ha fatto un guaio, devo fallire questa carta, e piazzare una, ship token, quindi un token nave, in ognuno degli oceani maggiori, usando le normali regole di piazzamento, e questo non mi turba tanto, perché qua ce l'ho, qua ce l'ho, qui, posso piazzarla, qui anche, no, qui ce l'ho, 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 l'unico problema è lì, ma credo di poterlo ovviare, il problema è che per ogni nave rivelata, piazzata così, guadagno una notorietà, e questo sono sei maggiori oceani, giusto? 1, 2, 3, eh no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono sconfitto, non ci posso, ma guardate che sfiga di una carta che sono andato a beccare, è una delle carte più sfigate, degli eventi più sfigati, ho alzato troppo il tiro, ho esagerato in maniera totale, perché sì, potevo piazzare una nave, pescavo e piazzavo qui, una, pescavo e piazzavo qui, due, comunque è un evento devastante, piazzavo e pescavo qui, a prescindere da un evento devastante, piazzavo e pescavo qui, comunque sei navi, guardate se potevo mettere sei navi, poi avevo il piazzamento anche, quindi tutte navi mostruose, questo, tiravo via questo e rivelavo una nave qui, quindi guardate che disastro, in più, in più avrei dovuto guadagnare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho passato i 36, ho perso la partita, l'opinione pubblica mi ha devastato, mi viene da piangere, arrivare fino a Roma e non vedere il Papa, niente, ho finito, ho perso la partita, e sarebbe stata comunque dura, dopo questo evento, anche riuscire a arrivare qui, mettiamo, avevo ancora, eh no, troppi eventi prima di arrivare al finale, soprattutto queste sei navi che avevo piazzato, alle quali avrei dovuto aggiungerne, altre sul 4 va bene, sul 1, 2, 3, 4, sul 5 rivelavo questo, sul 6 rivelavo queste due, o questa, ragazzi, cominciava a diventare improponibile, che brutta batosta, adesso giusto per curiosità, voglio capire quante ce n'erano, ancora prima del finale, era per l'ultima, era qui, c'erano ancora quanti turni, 1, 2, 3, poi ci sarebbero entrate in gioco anche queste navi, falli, falli, ah, questo è un contro capitale, guadagnavo 2 notorietà, 2, avrei guadagnato altra notorietà, altra notorietà, insomma, non ce l'avrei fatta comunque, non ce l'avrei fatta comunque, non ce l'avrei fatta in ogni caso, questo sarebbe interessante, questo sarebbe bello lanciare i cannoni, è un potenziamento che avrei fatto, e poi avrei, sarei arrivato, se la, eh, se no, avrei dovuto, sì, ce l'avrei fatta, no, avrei dovuto fare anche questi due eventi, in questo, in questo finale, ragazzi, è una tragedia, e sono a livello facile, sono a livello facile, avrei dovuto tenere sotto controllo, forse ho speso troppe, sparato troppe, troppe navi, non lo so, ma questo è il gioco, questo è il gioco, eh, è un gioco complicato, ma estremamente divertente, un po' frustrante, ma, ragazzi, mi spiace, ho perso la partita, eh, la mia notorietà è, si è innalzata troppo, avrei dovuto tenerla sotto controllo, eh, un po' di più, pazienza, questo è, Nemo's War, se vi è piaciuto il video, mettete un like, eh, se vi piace il canale, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, e il mio epilogo, è stato un epilogo, terribilmente triste, la mia nave, è stata affondata, ciao a tutti, e buona giornata. Ciao a tutti,